L'ultimo massiccio montuoso che fa da spartiacque con la Svizzera è il Monte Rosa, patria di molti facci di 4000 ma di una delle mete più belle e unica nelle Alpi. La cresta sella e la traversata dei Liscam sono un viaggio di cresta a fil di cielo e un sogno per qualsiasi alpinista. Grazie per la visione! Grazie a tutti!